Giordano Bruno, il filosofo dell'infinito. Giordano Bruno, nato Filippo Bruno a Nola nel 1548, è stato un filosofo, scrittore e frate dominicano italiano vissuto nel XVI secolo. Le sue idee, che contrastavano con le dottrine ufficiali della Chiesa Cattolica, lo portarono a essere condannato al rogo dall'Inquisizione Romana nel 1600. Bruno è considerato uno dei più importanti filosofi del Rinascimento, e le sue idee hanno avuto un profondo impatto sul pensiero moderno. Il suo pensiero si basa su un'idea centrale, l'infinità dell'universo. Bruno sostiene che l'universo non ha un centro, e che le stelle sono altrettanti soli, ognuno con i propri pianeti. Inoltre, sostiene che l'universo è in continuo movimento e trasformazione. Queste idee erano in contrasto con la visione geocentrica dell'universo, che era ancora prevalente all'epoca. Secondo la visione geocentrica, la Terra era al centro dell'universo, e il Sole e le altre stelle ruotavano attorno ad essa. La visione di Bruno era invece eliocentrica, e poneva il Sole al centro dell'universo. Le idee di Bruno erano anche in contrasto con la visione antropocentrica del mondo, che poneva l'uomo al centro dell'universo. Bruno sostiene invece che l'uomo è solo una parte dell'universo, e che non è superiore agli altri esseri viventi. Bruno è stato un pensatore radicale e anticonformista, e le sue idee hanno avuto un impatto profondo sulla storia del pensiero. È considerato un precursore dell'illuminismo, e le sue idee hanno contribuito a diffondere l'idea della libertà di pensiero e della tolleranza religiosa. Le opere di Giordano Bruno. Bruno ha lasciato un'ampia produzione letteraria, che comprende opere di filosofia, teologia, poesia e teatro. Tra le sue opere più importanti si possono ricordare, dell'infinito, universo e mondi. 1584 in questa opera Bruno sostiene l'idea dell'infinità dell'universo e dell'esistenza di altri mondi abitati. Della causa, principio e uno, 1584 in questa opera Bruno sostiene l'idea dell'unità dell'universo e della sua origine da una materia eterna e infinita. Dell'immortalità dell'anima. 1588 in questa opera Bruno sostiene l'idea dell'immortalità dell'anima e della sua unione con Dio. Spaccio della bestia trionfante. 1584 in questa opera Bruno critica il cristianesimo e sostiene l'idea di una religione universale. Il candelaio, 1582 in questa commedia Bruno critica la società del suo tempo. La condanna al rogo. Le idee di Bruno furono considerate eretiche dalla Chiesa cattolica, e nel 1592 fu arrestato dall'inquisizione. Bruno fu sottoposto a un processo durato otto anni, durante i quali fu costretto a ritrattare le sue idee. Tuttavia, Bruno si rifiutò di abbiurare, e nel 1600 fu condannato al rogo. La condanna di Bruno fu un evento simbolico, che rappresentava la vittoria della Chiesa cattolica sul pensiero rinascimentale. Tuttavia, Bruno è diventato un simbolo della libertà di pensiero e del coraggio di fronte all'oppressione. L'eredità di Giordano Bruno. L'eredità di Giordano Bruno è ancora oggi attuale. Le sue idee hanno contribuito a diffondere l'idea dell'infinità dell'universo, dell'unità della materia e della libertà di pensiero. Bruno è considerato un precursore dell'illuminismo, e le sue idee hanno contribuito a formare la nostra visione del mondo. Grazie a tutti.